La grande paura è passata, la pina del Bacchiglione è scivolata via lasciando quasi indenne il capoluogo, Vicenza. Ma il fiume con la sua portata d'acqua fuori città a guardarlo fa ancora paura. Il suo livello a ponti di debba è e rimane elevato seppure sembra scorrere placido. La strada è chiusa, il passaggio delle auto rimane comunque lo stato di allerta. Bacchiglione che poco più in là a Longara è tracimato allagando la campagna finendo in qualche cortile, orto e giardino. La forza inarrestabile dell'acqua ha trovato sfogo nei campi lasciando fortunatamente intatti i paesi.